La fuori ci sono migliaia di operai, hanno il diritto di sapere cosa succede. Dobbiamo avvertirli. Torna indietro. E quanto è grande, più o meno? Potrebbe trattarsi del più grande fenomeno degli ultimi millenni. Ed è proprio nella zona delle piattaforme. E di coloro che ci lavorano. Quanto tempo abbiamo? Umberto. Vieni a vivere con me, Odin. È meraviglioso. Un nuovo inizio. Sì, un nuovo inizio. Qual è lo scenario peggiore? L'intera costa occidentale della Norvegia sarà devastata. Tutta la fauna, la natura. Ci vorranno decenni per potervi porre rimedio. Un secolo. Nessuno è preparato all'eventualità di una tale sicura. È successo qualcosa a papà? Pensate a Odin. Sofia è andata laggiù. Andiamo! Ci troviamo di fronte a un evento storico. Una situazione senza precedenti innanzi alla quale ci troviamo impreparati. Ian! Fermi! Sofia! FONTI! Autore dei sovrapposti